Grazie davvero, mi avete commosso, grazie per questa bellissima partecipazione, grazie Isernia, grazie davvero, grazie a tutto il Molise, grazie a Filoteo, a Costanzo, a Desio, a Elisabetta, grazie agli assessori, ai consiglieri regionali, ai sindaci, ai consiglieri comunali, ai presidenti di circolo, ai militanti, ai nostri elettori, grazie davvero a tutti. Pensare con grossa forza l'aspetto ambientalista, questo non significa che i nostri agricoltori, i nostri pescatori non sono custodi del territorio, anzi sono i primi custodi, però non possiamo più criminalizzarli, l'Europa in questi anni... Giorgia Meloni, l'hanno detto tutti, ci ha messo la faccia in prima persona e quindi sì, diamo una bella mano in questa campagna elettorale, perché è una campagna elettorale importante, casa per casa, croce sul simbolo e scriviamo Giorgia. Buona campagna elettorale a tutti, viva Fratelli d'Italia, viva Esernia, viva il Molise, viva l'Italia, grazie. Grazie.